Gentili telespettatori, buona giornata. Vedo un articolo che dice che la Repubblica avrebbe detto una bugia per andare contro Meloni. Andiamo a vedere se è vero. Sapete che i giornali sono schierati chi ha destra, chi ha sinistra, chi fiancheggia la sinistra, chi fiancheggia la destra e a questo punto bisogna sempre andare a verificare se si riesce a fare una verifica, se è vero quello che raccontano. La Repubblica dice che tolgono la legge 194 dal dossier al G7, ma non è vero. Abbiamo visto in Parlamento. Aggressione in Parlamento è stato lui, no, non è vero, l'altro ha fatto finta. Quindi, per esempio, alle elezioni europee hanno vinto tutti, non ha perso nessuno. Tutti che vincono. Lo sapevo, prima delle elezioni ve l'avevo detto. Alle elezioni avevano vinto tutti. Aggressioni in Parlamento di ieri sono stati tutti aggrediti, nessuno ha aggredito, sono stati tutti aggrediti dai fantasmi. Quindi hanno vinto tutti le elezioni, sono stati tutti aggrediti e poi si dicono le cose a vicenda. Sono tutti squadristi. A sinistra sono squadristi, a destra sono squadristi. Tutti vincono le elezioni. In Parlamento nessuno è aggredito, ma sono tutti aggrediti. Capite che la verità è una sola in tutti questi casi. Si vede che c'è, magari in maniera alterna, una parte politica che dice una bugia, che racconta una balla. Questo era per fare una premessa su quello che oggi succede. È colpa mai di nessuno. Tutti vincono ed è colpa sempre degli altri. Gio Baineden, presidente degli Stati Uniti, arriva in Puglia per il G7, saluta Meloni, si apre così il summit dei grandi della terra a Borgo Ignazia in Puglia. A me questo Borgo Ignazia comincia a stare antipatico il nome. Più lo sento, più comincia a diventarmi antipatico, però è una roba mia. Ma in queste ore hanno preceduto i fotografi, la Meloni che saluta tutti gli altri, eccetera, eccetera. Come sottolinea il secolo d'Italia, c'è Repubblica che parla di fonti riservatissime tedesche e francesi che avrebbero protestato per la mancanza del tema aborto nel documento finale previsto per il G7. Io non ho ancora capito che cosa c'entra questo tema nel documento del G7. Devono parlare di questo? Era un tema del G7? Perché? Non l'ho ancora capito, però Repubblica dice che ha queste fonti riservatissime tedesche e francesi che dicono che questi due Stati, Germania e Francia, avrebbero protestato perché mancava questo argomento nel documento finale. A questo punto, dicono, nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni, qui dice Palazzo Chigi, nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative a questa tematica dalla bozza delle conclusioni del vertice del G7, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso. Tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto di un negoziato fra i membri del G7. Poi si dice che anche Biden abbia rimproverato la Meloni per la mancanza di questo argomento nel G7. I giornali di destra dicono che l'ennesimo tentativo di sporcare l'immagine del governo e della Meloni proprio in un momento così importante del G7. Del resto Meloni si presenta a questo appuntamento col vento in poppa dopo il risultato alle europee, i due milioni e mezzo di elettori che le hanno dato la preferenza e dicono poi a quanto pare qualche giornalone non ha ancora smesso di rosicare. Anche in questo caso, come i casi che vi ho detto all'inizio del video, il fatto è successo e non è successo. Quindi anche qui realmente non si riesce a capire quello che è successo, perché giornali che dicono che è successo così hanno cancellato quelli del governo questo tema, quelli hanno protestato e invece i giornali di destra dicono ma va, ma sono tutte balle, sono cose che si sono inventate, i giornali di sinistra, la Meloni non ha cancellato assolutamente nulla. Quindi è stato cancellato il tema o non è stato cancellato? Poi perché c'è questo tema durante il G7 non lo capisco, credo che in tutti i paesi del G7 ci sia questa legge in varie forme, quindi non ho capito di che cosa dovrebbero parlare su questo tema. Però anche in questo caso, come alle elezioni hanno vinto tutti, in Parlamento nessuno ha aggredito, sono stati tutti aggrediti, destra e sinistra si scambiano l'accusa, voi siete squadristi, non siete squadristi voi, voi stigate all'odio e gli altri rispondono siete voi che stigate all'odio, quindi si scambiano tra destra e sinistra, si scambiano le stesse identiche accuse di cose esattamente identiche, tu sei squadrista, sei tu squadrista, tu stighi all'odio, non sei tu che stighi all'odio, tu hai menato in Parlamento, no sei stato tu, io ho fatto finta, l'altro non c'è riuscito ma voleva farlo, ma non è riuscito. Alla fine, a questo punto, su qualunque notizia, a meno che non ci sia una prova certa, un documento da leggere, si va così tra giornali fiancheggiatori di sinistra e giornali fiancheggiatori di destra, che raccontano praticamente diametralmente le notizie all'opposto, quindi i giornali di sinistra, la Meloni voleva cancellare la legge, questo tema dal G7 e i giornali di destra che dicono tutte balle, se li sono inventati i giornali di sinistra, è tutto inventato. Qual è la verità? Non lo so, qualcuno di voi vuole andare lì al G7 a chiedere una fotocopia del documento finale? Se riuscite ad avvicinarvi tra i condici, guarda io volevo una fotocopia perché devo capire tra i giornali fiancheggiatori di destra e fiancheggiatori di sinistra chi ha ragione, perché evidentemente qualcuno dice balle, ma chi sta dicendo balle in questo caso? Voi ci mettete la mano sul fuoco su chi dice balle? Visto quello che succede ultimamente non c'è da credere sulla parola a nessuno. Arrivederci a tutti e grazie.